In ambito di legge europea si parla di richiesta d'asilo politico. Qual è la posizione della Lega Nord? Noi siamo assolutamente contrari per una questione molto semplice. Con la proposta che è stata fatta in Commissione Politica dell'Unione Europea viene data una delega in bianco al Governo su legiferare su una materia che dovrebbe essere competenza del Parlamento, quindi di chi è eletto e non come il Governo Renzi in carica autonominato. E anche perché il corollario delle leggi europee che riguardano tutti gli status di rifugiato, diritto d'asilo e così via sono quasi in contraddizione tra di loro e noi per dimostrare di fare i compiti a casa andiamo di fatto a creare invece dei favorittismi a chi in realtà non avrebbe propriamente bisogno e che nel caso in cui non sia assolutamente regolare poi nemmeno si è messo in condizioni di pagare per quello che ha commesso. Ma sorge anche un dubbio perché con le modifiche introdotte alle leggi di delegazione europea di fatto traducendolo in atti a pagare saranno sempre i cittadini onesti, a beneficiare saranno in molti casi le cooperative che potendo sgravare le proprie tasse se dimostrano avere il 30% di persone svantaggiate tra cui rientrano anche i richiedenti d'asilo, di fatto è un regalo che il Governo di sinistra fa al mondo di sinistra.